Sono scesi in strada Pescara commercianti e residenti con associazioni e politici nel corteo organizzato dal comitato Salviamo Viale Marconi, tutti insieme per ribadire il loro no al progetto dell'amministrazione comunale dell'arteria Quattro Corsie. I lavori, continua a ripetere il comitato, stanno creando solo problemi e si rischia di spegnere definitivamente il commercio in questa parte di città. Fabiana Tenerelli, presidente del comitato. A settembre stiamo cercando di parlare con l'amministrazione, ciò non è stato possibile, o meglio è stato possibile ma senza alcun risultato e quindi oggi abbiamo deciso di scendere simbolicamente per far vedere che la nostra disapprovazione continua. Il corteo nasce dal comitato Salviamo Viale Marconi, però pare che diversi altri comitati della città di Pescara si sono uniti perché le scelte amministrative di questa giunta comunale stanno rovinando l'economia di questa città. Veniamo da due anni di Covid, pesanti per tutti e quindi dovrebbe ringraziare Dio che siamo ancora in piedi il nostro sindaco, ma invece pare appunto che a lui non interessa nulla delle nostre attività e di conseguenza se non ci pensa lui a noi noi ci pensiamo da soli. Ma i lavori stanno procedendo, sono finiti? Non sono ancora finiti, sappiamo soltanto che ormai è impossibile lavorare, abbiamo cali di fatturato molto grandi perché non ci si può più accostare davanti alle nostre attività, è inutile parlare di sostenibilità solo considerando l'autobus, sostenibilità è tutt'altro, sostenibilità è tenere viva l'economia di un quartiere. In questo modo lui sta portando la desertificazione di Pescara Sud. Non ci sono solo i commercianti, mi pare di capire pure i residenti? Assolutamente, perché ovviamente la qualità della vita delle persone dipende anche dal quartiere e dalla vivacità di un quartiere. Se lui porta a una desertificazione nella zona, sicuramente anche per i residenti la piacevolezza della vita non è più tale. Questo corteo dove giungerà? Per volontà della questura giungerà a Piazza Unione e soltanto poi una piccola delegazione arriverà sotto al comune. Pensate di poter ancora cambiare il progetto? Ma noi lo cambieremo, che sia oggi, che sia attraverso le vie legali, a noi questo non ci sta bene, quindi questo progetto verrà cambiato. Ecco, presente, per concludere, prossimo passo? Prossimo passo stiamo aspettando il risultato dei ricorsi legali che però purtroppo richiedono dieci mesi. Però intanto noi andiamo avanti, c'è il Marconi District che è il concorso di idee che abbiamo bandito a livello nazionale con architetti e professionisti del territorio affinché la creatività dei giovani possa magari dare una nuova linfa a questa parte di Pescara. Grazie. 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 Grazie.